La carriera in ascesa di Belen Rodriguez subisce uno stop, i giornali di gossip fanno sapere che l'Argentina ha appena ricevuto una brutta notizia. Belen Rodriguez sta vivendo un periodo d'oro sia dal punto di vista sentimentale, che lavorativo, oltre alla crisi scongiurata con Andrea e Andone, la showgir sta ottenendo un successo dopo l'altro nelle varie trasmissioni alle quali partecipa. In questo momento così fortunato della sua carriera, però, l'Argentina si è ritrovata a dover affrontare una brutta delusione professionale, come raccontano tutti i siti di gossip in queste ore infatti, sembra che il ristorante Ricci, del quale la conduttrice era co-proprietaria, abbia chiuso i battenti, e che al suo posto sia stata aperta una rinomata pizzeria. Belen Rodriguez fallisce come impredditrice, chiude il suo ricci, tra il successo di Tussico e Vales, le tante ospitate al malizio Costanzo Show e al grande fratello V, ed una ritrovata serenità accanto ad Andrea e Andone, è arrivata una brutta delusione per Belen Rodriguez. Molti siti di informazione, infatti, in queste ore hanno fatto sapere che il ristorante Ricci, che la showgirl aveva aperto in società con Io e Bastianich, ha chiuso i battenti improvvisamente. Il locale, aperto pochi anni fa in centro a Milano, era un punto di riferimento sia per l'Argentina, che per le tante persone, che fanno parte della sua vita, sono molte, infatti, le serate, che la 33enne ha trascorso lì, tra cene extra lusso e chiacchierati karaoke, i giornali hanno raccontato che spesso Belen intonava canzoni di Emma Marrone, sua ex rivale in amore, proprio in quel posto. Stando a quello che si legge sul web, dunque, sembra che il Ricci abbia chiuso per fallimento, e che ora al suo posto sia stata aperta la pizzeria da Michele, una catena già molto famosa in altre parti d'Italia. Come mai il ristorante su cui ha investito la Rodriguez non ha funzionato, vista la grande popolarità della show Girly e le sue ripetute apparizioni nel locale, sembra strano, che l'attività non abbia mai davvero ingranato. Eppure, si sa che Belen nel ruolo di imprenditrice va molto forte, oltre al Ricci, infatti, l'Argentina ha aperto con successo anche vari saloni di bellezza, ai quali fa da testimoniale. Gossip, futuro in tv da mamma per Belen Rodriguez, la notizia, che il ristorante Ricci è stato chiuso a pochi anni dalla sua apertura, non deve sicuramente aver fatto piacere a Belen Rodriguez che, però, in questo periodo sembra aver altro a cui pensare. Terminata l'esperienza di Cecilia Ieremiaz al grande fratello VIP, l'Argentina si dice si stia preparando per fare un importante annuncio, nel corso della finalissima del reality di lunedì 4 dicembre, c'è chi sostiene che la conduttrice comunicherà al pubblico, che sarà proprio lei a presentare l'edizione NIP del programma nella prossima primavera. Nell'attesa di scoprire se le voci sulla presenza della 33enne alla puntata conclusiva del GF VIP siano vere o no, sui social network c'è chi fa sapere che potrebbe essere una bufala, riportiamo un'altra interessante news sulla regina assoluta del gossip nostrano. Novella 2000, nel suo numero uscito il 3011, non solo smentisce la presunta rottura tra Belen Andrea e Annone, ma documenta con alcune foto esclusive la serata romantica, che i due hanno trascorso qualche giorno fa a Milano, prima in discoteca fino a notte fonda e poi nel suite di un famoso hotel della città. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla rivista scandalistica, la Rodriguez ed il pilota non si sarebbero mai lasciati, si parla di un periodo di crisi già superato, e oggi starebbero seriamente pensando di avere un figlio, come si legge sul giornale uscito poche ore fa. Infatti, pare che la Shogel ed il compagno siano pronti ad allargare la famiglia, e a regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.